Siamo con l'assessore Eugenio Patanè, assessore alla mobilità. È molto complicato fare l'assessore alla mobilità in una città come Roma. Abbiamo avuto due giorni con il MAS dove il confronto è stato molto importante con non solo varie città italiane, Napoli e Milano, ma anche con diverse regioni, assessore. Sì, è stato un confronto molto interessante tra istituzioni ma anche con le imprese, sia pubbliche che private, per tentare di rispondere a una domanda, cioè come noi attraverso l'innovazione tecnologica possiamo ridurre la quota modale di gente che oggi utilizza l'autovettura privata per spostarli sul trasporto pubblico, sulla sharing mobility, sulla pedonalità. Ecco, questo è lavorare sulla innovazione tecnologica dedicata alle nuove forme di mobilità. Il MAS non è nient'altro che un'applicazione che consente ai cittadini di individuare dei mezzi di spostamento che siano quanto più possibili intermodali per muoversi da un punto A a un punto B. Prima lo si faceva con la macchina oppure prima lo si faceva solo col trasporto pubblico, oggi lo si può fare con diversi mezzi, lo si può fare con la bicicletta e poi utilizzando il trasporto collettivo, lo si può fare con il traghetto se vieni da un'isola eccetera eccetera eccetera. Quindi il MAS, l'innovazione tecnologica e digitale ci aiuta esattamente a questo. Quindi una vera opportunità non solo per l'Italia ma anche per Roma? Assolutamente sì, se la leghiamo poi anche al fatto che lo spostamento alle diverse modalità di spostamento si unisce anche alla possibilità di applicazione di una bigliettazione che sia premiante nei confronti dei comportamenti virtuosi, da un puntista ovviamente degli spostamenti di mobilità, che si pongono in essere. Quanto più tu agisci in modo virtuoso, quindi utilizzando trasporto pubblico, trasporto collettivo, utilizzando sharing mobility eccetera, ti deve essere applicata una bigliettazione che sia premiante e più economica possibile. Ecco, la vera sfida del MAS è esattamente questo, cioè un vestito che si attagli addosso all'utilizzatore alle necessità di spostamento ma allo stesso tempo l'applicazione di una bigliettazione che sia premiante e quanto più economica possibile. Grazie Assessore. Grazie a voi.